Sono due napoletani di 23 e 36 anni, i due malfattori che ieri sono stati posti agli arresti domiciliari dalla questura di Chieti perché considerati gli autori della cosiddetta truffa del pacco, messo a segno nello scorso mese di aprile in un solo giorno e in due distinti casi che hanno fruttato un bottino di oltre 3.000 euro. Nel primo caso ad essere reggirato è stato un 92enne di Chieti, contattato telefonicamente da un fantomatico nipote che gli chiedeva di ritirare un pacco da pagare alla consegna con 2.300 euro in contanti. L'uomo, dichiarandosi sprovvisto della cifra, era stato accompagnato al bancomat dal finto nipote e dal sedicente corriere ai quali aveva consegnato il denaro per poi essere riaccompagnato a casa. Qui, resosi conto dell'accaduto, aveva asporto denuncia alla polizia che ha immediatamente avviato le indagini a partire dalle celle telefoniche dell'anziano raggirato. Gli agenti sono così risaliti alla cabina di regia dei malfattori con sede a Napoli da cui partivano le innumerevoli telefonate sul fisso di caso e sul cellulare dell'uomo per tenere occupate le linee telefoniche mentre si compiva il reato ed evitare che il malcapitato venisse contattato da qualche parente che avrebbe inevitabilmente smascherato la truffa. Nel frattempo, dopo aver agito a Chieti, i due malviventi si sono spostati a Lanciano per raggirare con la stessa modalità una 79enne, la quale però ha consegnato ai due napoletani solo 800 euro che erano nelle sue disponibilità. Anche in questo caso la donna, accortasi del reggiro, ha sporto denuncia rivolgendosi questa volta ai carabinieri. La questora di Chieti, intanto, dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza dell'Istituto Bancario dove il 92enne era stato accompagnato a prelevare, individuata la targa dell'auto su cui viaggiavano i due malfattori ha appurato che l'auto era stata presa a noleggio da una ditta con sede a Treviso. Incrociando i dati delle indagini, quindi, i due malviventi sono stati infine individuati e posti agli arresti domiciliari. Si tratta di un 23enne e di un 36enne di Napoli con precedenti di polizia ma senza condanne. Con ovviamente delle indagini che sono state fatte a 360 gradi da parte della terza sezione della squadra mobile siamo riuscite a risalire ai due personaggi che hanno materialmente effettuato la truffa ma le telefonate sono state effettuate dalla cosiddetta cabina di regia che si trova a Napoli. Quindi da Napoli partono le telefonate dirette agli anziani e l'esecuzione materiale avviene sul territorio prescelto diciamo in quella data giornata tra virgolette lavorativa. Non lasciare mai soli gli anziani perché ovviamente sono facile preda di persone senza scrupoli quindi non lasciamoli soli e quando si hanno dei dubbi chiamare subito il 113 o il 112 in maniera tale che venga immediatamente inviata una volante per valutare quella che è l'esistenza.